Pabllo Calzalis, 23.1, sono amico di Alessandra Sagasti, adias Batman. Hola Pabllo, Batman e Robin. Alex, ho detto che sono tu amico, ho detto che sei un amico, ho posto adias Batman. Eri amico di Alessandra Sagasti, adias Batman. Vale. Ahi non enfoca, 20, si es que me tiemblan las piernas, no, vale, perdonare, voy para qui. Vole, vale, parlon del 9, vas a hacer ahí, no? Ahi. Donde Pablo? Donde Pablo? Vole, vale. Vole, vale, vale. Donde Pablo? Donde Pablo? poi poi lo giro sono ne ha avanti un po' è da qui non si va in questa si si Grazie. Grazie. Sì, 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 sì. Sì, per questo vengo, ora ti faccio la scuola. No, è che ho fatto mettere prima questo e poi giro. Tu hai detto che sei amico di Ugo. Ugo, poi le faccio girando, no? Sono amico di Ugo, Martín, anche. No, 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 no. Sono amico di Ugo. Avisa. Tu hai detto 3, 2, 1. 3, 2, 1, le doy. Pablo, tu a mi. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Grazie a tutti. 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 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, up. Ui, perdona